e vai dire oh 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 solo dire quando vedi che non c'è questo movimento lui deve essere così controllo capito da qui subito poco subito più un movimento più semplice diciamo deve più vicino adesso andiamo a vedere e attacca gli ginocchi anche se lui scappa diciamo tu fai e lui scappa continua 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 se non va con seconda sotto talone non si si andrà no 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 non funziona ecco un punto che ha perso il movimento e lui sta no credimi che lui non sta dentro so si sta anche se si attacca così tu devi proprio pennello ah ok diciamo si tiene vedi lui sta basta fino qua qua e avanti capito? si e poi devi coprire bene tante cose si, sempre si questo è uscito perché quando ti controllano tra le gambe devi hop e portare via la gamba per liberarsi questa cosa funziona volevo anche questa cosa dimostrarti però diciamo devi uscire qui vedi? si e poi questo prova a fare qualcosa prova prova vedete? così io posso prendere schiena schiena voglio mostrare anche questi poi ancora non sono qui vedo in questa direzione vedi qui devo prendere po' 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 difficile eh no 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 con questo no 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 con questo braccio con questo dentro vedete? vedete? tienite con braccio sinistra O, B, E e questo dentro vedete? sì 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 da vi è uccidere e metti braccio suprano le corpo sì 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 questo controlla un poccino con gambe e con braccia e adesso si fa oh vedi? così hai fatto una volta? hai fatto così hai fatto così tu sei uscito così però non ricordi hai fatto così e poi sei alzato completamente hai fatto proprio alzato hai fatto questo in modo automatico che è naturale grande ost alinamento è finito grazie per attenzione sei stato bravo di piano tecnica crescita ma in realtà non ci ferma nessuno perché sei duro ma se non vuoi si tengono più liberi vedete se sei libero in un modo più chiaro sarà super bene offre abbiamo finito un altro chiudete chiudete lontare ha 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 lontare 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 lontare